è il momento di passare alla seconda fase di questo evento e quindi cominciare a parlare di quello che sono quantum physics e quantum internet. Per farlo è il momento di lasciare per me il palco a Gabriella Garrison che è fisica, attrice, performer e ci verrà a raccontare con lo suo stile. Vieni Gabriella, raggiungimi. Un applauso. Nei dieci minuti che ci ha concesso di tempo, da dove parte tutto questo? Io ti lascio il palco, ti vedrai ricomparire come un falco quando sarà il momento di chiudere. Ti ringrazio molto. Grazie, grazie. Tutte le storie che hanno a che fare con la grande scienza sono tutte storie straordinarie, perché hanno a che fare con qualcosa, un'idea, una scoperta, una trovata, che prima non c'era e poi esiste e quando è davvero grande cambia per sempre il futuro del mondo e la vita delle persone. Ma soprattutto le storie di grande scienza sono straordinarie, perché hanno a che fare con i grandi scienziati e per averle pensate, quelle idee, quelle scoperte, quelle trovate, dovevano essere per forza dei tipi straordinari. Uno, un fisico se le immagina sempre con gli occhialini tondi che se ne sta chiuso nella sua stanza senza mai vedere la luce. Ma non è così. La storia della scienza è fatta di fatti sconvolgenti, di paradossi, di gatti dentro alle scatole e di Big Bang. E quindi per aver pensato quelle nuove idee, per averle create, dovevano essere dei tipi anche piuttosto particolari. A me piace partire sempre da questa fotografia per raccontare qualcosa della fisica quantistica. Anzi, questa fotografia la racconto in un monologo che porto in giro già da nove anni, ho raggiunto 700 repliche nei teatri. Sono proprio ossessionata da questa foto, ma in particolare oggi vi parlo di uno di questi e dunque non di come è nata la fisica quantistica, ma il contributo che ha dato semplicemente uno di questi personaggi ritratti in questa famosa fotografia, 1927 Bruxelles, scale dell'istituto Solvay, Leopold Park, metro Schumann. A una manciata di metri c'è il Parlamento europeo. Ma allora, il giorno che è stata scattata questa fotografia non esisteva ancora. Il giorno che è stata scattata questa foto era un sabato, l'ultimo sabato di ottobre, il 29 per la precisione. Succede che per la nascita della fisica quantistica che è contenuta tutta dentro questa fotografia, la fisica quantistica è nata da tante teste, non è come per la relatività che il padre è uno solo, lo sappiamo, è Albert Einstein. Per la fisica quantistica i creatori sono tanti. Manca una manciata di donne, ma questo succedeva spesso, che non le facevano, vabbè, questo è un altro discorso, non ne parliamo adesso. Ma allora, di chi vi voglio parlare in particolare oggi? Vi voglio, però qui è rappresentata Marie Curie, che è in assoluto la più brava tra gli uomini e la più brava tra le donne, perché è l'unica aver vinto due premi Nobel in due materie scientifiche diverse, primato che non è stato raggiunto da nessuno. Vi voglio parlare in particolare di Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, quello con gli occhialini lì al centro, che se ne sta un po' così in tre quarti, con un buffissimo papillon e dei simpaticissimi occhialini tondi. Io sono andata sulla tomba di Erwin Schrödinger, quando ho voluto scrivere un libro su di lui. Lo faccio spesso, quello di andare nei cimiteri e di far visita alle tombe dei grandi del ventesimo secolo, perché mi piace, voglio sapere quello che hanno fatto per costruire il nostro mondo. Sono loro che hanno creato il nostro mondo. La prima rivoluzione quantistica è nata dalle loro menti e quindi i telefonini, i lettori cd, dvd, le tac, i chip al silicio fanno parte della prima grande rivoluzione quantistica. Ora stiamo vivendo la seconda rivoluzione quantistica, quello che state sentendo dalla parola di tutti i fantastici relatori che sono in questo prezioso ritrovo. Ecco, la seconda rivoluzione quantistica porterà un'altra sconvolgente novità tecnologica nelle nostre mani. Erwin Schrödinger è quello che utilizziamo di più. L'equazione di Schrödinger è esattamente quella che è contenuta in tutte queste novità tecnologiche. Sono andata sulla sua tomba e sulla sua tomba, intanto la tomba è al cimitero di Alpac in Tirolo dalla parte austriaca. Sulla sua tomba ci sono scritte delle cose, è molto alta, fatta tutta in ferro battuto, il cimitero è molto bello e ognuno con fantasia ha arredato la propria tomba. lui ha fatto mettere in particolare la sua equazione lì in alto, poi campeggia il suo nome, la data di nascita 12 agosto 1887, la data di morte 4 gennaio 1961, poi c'era sua moglie, vabbè, ma l'ha sempre tradita, non era forse così importante metterla insieme. Sì perché ha sempre vissuto, tutta la vita l'ha vissuta in bigadmia, era questo l'accordo che aveva preso con la moglie, quindi entrambi si tradivano a vicenda, vabbè, ma questo è un altro discorso, noi continuiamo a fare altri discorsi. Arriviamo all'altra frase che c'è scritto sotto l'equazione, una sua poesia, diceva così, perché ciò che esiste non è che esiste perché lo guardiamo o lo sentiamo e ciò che non esiste non è che non esiste perché non lo guardiamo mai e non lo sentiamo mai. Esistiamo perché siamo perpetui e se uno muore non è detto che non esista e se uno non è morto non è detto che esista. Ogni essere è un solo essere. Bellissimo. Schrodinger in particolare aveva un amico in questo gruppo, era Albert Einstein, lui fu il primo a aver riconosciuto la grandezza della sua equazione. Ecco, con l'equazione di Schrödinger, 1926, lui ha dato il suo contributo alla creazione della fisica quantistica. La fisica quantistica racconta il mondo dell'infinitamente piccolo e dunque le particelle della grandezza di 10 alla meno 34, la grandezza di Planck, elettroni e fotoni. Ognuno aveva dato il suo contributo, il primo, il più veloce, quello che aveva detto una cosa diversa era stato Planck che aveva dato una descrizione quantistica del corpo nero. Poi subito dopo è arrivato Einstein che diceva che la luce si propaga sotto forma di quanti di energia, poi è arrivato Niels Bohr che ha dato un altro suo contributo, Louis de Broglie, il francese, che diceva che la materia, così come Einstein parla di luce che si propaga sotto forma di quanti di energia, io parlo di materia che si propaga sotto forma di onde e così siamo davanti a una magnifica simmetria della natura. Il contributo di Schrödinger arriva in questo momento, lui scrive la sua famosa equazione. L'equazione di Schrödinger è un'equazione differenziale alle derivate parziali, i h tagliato d phi su dt, psi uguale h psi. Non importa che non capiate che cosa sono questi simboli, però dovete sapere che questa equazione nel mondo quantistico ha preso definitivamente il posto. Schrödinger ha sostituito Newton e dunque la particella, le particelle nel mondo quantistico non si muovono secondo le regole del mondo del reale, quello che siamo abituati noi, ma si muovono in una maniera diversa. Noi non abbiamo un'indeterminazione nel movimento della particella e il modulo quadro della psi rappresenta la probabilità che una determinata particella si trovi in una certa regione dello spazio, quindi possiamo soltanto dire qual è la sua probabilità. Einstein è impazzito. Quando l'ha sentito intanto aveva un po' paura perché lui stava litigando continuamente con Niels Bohr sulla creazione della fisica quantistica e voleva qualcuno dalla sua parte. Erano tutti dalla parte di Bohr. Gli urlerà la famosa frase Dio non gioca a dadi per dire che non è possibile usare la probabilità per spiegare le cose come accadano nel mondo della fisica quantistica e cercherà sempre nuove strade. L'alleanza di Schrödinger arriverà dopo. Però la cosa interessante è che quando Einstein ha detto questa equazione è rimasta entusiasta e lo ha fatto parlare nello spazio che doveva avere lui all'inizio del congresso Solvay, il quinto, 1927. Lui doveva parlare come la quinta relazione più importante che si leggono all'interno dei vari congressi. Lui ha avuto un po' paura perché ha sentito il racconto della teoria ortodossa della fisica quantistica, quella nata nella scuola di Copenaghen di Niels Bohr, ha detto maia perché qui sono tutti dalla sua parte, erano tutti più o meno d'accordo su quello che raccontava Bohr e ha fatto parlare Schrödinger. Schrödinger ha raccontato un mondo che si stava immaginando soltanto lui. La comunità scientifica all'inizio non dava molto peso a tutto quello che loro raccontavano. Ci sono voluti tanti e tanti anni perché loro erano adagiati sulla rassicurante fisica classica. Loro dicevano i libri raccontano già questo che bisogno c'è di dire altro. Eppure ognuno ha dato un contributo fondamentale per arrivare a quella che oggi appunto porterà nuovi sconvolgimenti nelle nostre vite. Ora per arrivare a una conclusione a me piace dire che appunto è fondamentale quello che avete raccontato anche voi. L'equazione di Schrödinger è alla base dei super computer quantistici, del machine learning, del teletrasporto, la chimica di oggi, la biologia. Il machine learning viene usato dalle grandi aziende. Io l'altro giorno ho visto un video in cui c'era, per agganciarmi a quello che dicevate prima, in cui c'era Henry Kissinger che era stato il consigliere di Nixon nella guerra in Vietnam, che parlava della guerra tra Ucraina e Russia. Ma ne parlava in una maniera pulita, senza tutte quelle frasi che sentiamo dei politici oggi. Quello è un Hitler, quello è un pazzo. Non usava queste parole qui. Kissinger usava parole pulite perché utilizzava il machine learning per riuscire a portare a dei ragionamenti che arrivassero al punto, ripuliti da tutte altre informazioni come il sentimento, l'impeto, la rabbia, l'odio di un partito con l'altro. Lui usava il machine learning ed era arrivato a una sua formulazione ben precisa, una sua idea. Ecco quindi che può essere usato in qualsiasi campi. Chiudo con una cosa che vuole portare delle parole diverse insomma al mondo che stiamo raccontando, che al mondo dell'infinitamente piccolo, cioè gli atomi, cioè gli elettroni, che sono le parole che ho trovato lì ad Alpac. Ad Alpac a fianco c'è un cimitero, a fianco al cimitero dove è seppellito Schrödinger. Si chiama cimitero divertente perché non vengono seppellite le persone lì, ma ci sono delle frasi che sono simpatiche attribuite ai vari personaggi della storia. L'unica che non faceva ridere era una poesia e quella che è stata attribuita a Richard Feynman e vi cito la sua poesia che è scritta lì. E parla di atomi, parla dello stupore di questo mondo, esattamente quello che viviamo noi, quello che vivono tutte le persone che si avvicinano alla fisica quantistica. Da solo, in riva al mare, comincio a pensare. Ecco le onde scroscianti, montagne di atomi, ognuno ottusamente intento ai fatti suoi, miliardi di miliardi lontano, eppure formano all'unisono spuma bianca. Eri suere, prima che un occhio potesse vederli, anni dopo anni, martellare possenti, la riva come ora. Per chi? Per cosa? Su un pianeta morto che non ospitava alcuna vita? Come queste onde reali, quelle elettromagnetiche, sono senza requie, torturate dall'energia prodigiosamente sprecata dal sole e riversata nello spazio, come una briciola fa ruggire il mare. Nel profondo del mare tutte le molecole ripetono l'altrui struttura, finché se ne formano di nuove complesse, ne creano altre a propria immagine e iniziano nuova danza. Crescono in dimensioni e complessità, esseri viventi, masse di atomi, DNA, proteine, danzano figure ancora più intricate. Fuori dalla culla, sulla terra asciutta, eccomi in piedi, atomi con la coscienza, materia con la curiosità, in piedi, davanti al mare, meravigliato della propria meraviglia, io, un universo di atomi, un atomo nell'universo. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.